Dove ripetere sempre la stessa risposta, noi abbiamo trovato una situazione per cui all'indomani di Mafia Capitale l'ANAC aveva stoppato in un primo momento tutte le gare e poi dopo annullate completamente quindi è stato fatto tutto un lavoro da quando siamo arrivati noi di ripianificazione di tutte le gare le gare stanno andando adesso in porto, a fronte delle gare ci saranno ovviamente gli affidamenti la città potrà cominciare a vedere questi lavori che partiranno in massa quindi le strade soprattutto quelle dei municipi già sono in parte in lavorazione presto partiranno anche sulle consolari che è diretta competenza del dipartimento quindi del nostro lavoro pubblico